Aprire la app Uber anche ai tassisti e la proposta di alcuni sindacati dei taxi alla multinazionale che gestisce un sistema di prenotazione online di autonolegio duramente contestata nelle scorse settimane a Milano. Scrivono UGL, Federtaxi, Cisal, Fit, Cisle e Will Transporti. Vogliamo dimostrare la nostra disponibilità al confronto anche in termini di mercato invitandovi ad aprire la vostra applicazione agli unici operatori abilitati al servizio taxi in Italia e in gran parte d'Europa. I tassisti